che probabilmente aveva preparato la partita sui cambi gioco e sull'uno contro uno sull'esterno perché hanno tantissima qualità, chiaramente inizialmente abbiamo un po' dovuto prendere le misure però credo che poi siamo stati bravi nel soffrire in quel punto che i primi 20 minuti dopodiché una volta prese le misure secondo me abbiamo fatto una grande partita concedendo poi successivamente molto poco se non niente e avendo diverse occasioni per ampliare il punteggio però va benissimo così ad avercene di 1-0 è la seconda volta che la squadra non supplicerete, è un cambio di passo importante beh sicuramente sappiamo che per fare i punti che dobbiamo per forza fare la priorità è quella di prendere pochi go se parte da quello anche perché poi davanti abbiamo la qualità per fare male agli altri e lo sappiamo credo che queste due vittorie siano figlie comunque di una solidità non parlo di difesa come reparto ma proprio di una solidità di squadra di un grande lavoro da parte del centrocampo di un grande lavoro da parte degli attaccanti e questa è la strada ecco lo sappiamo ma bisogna martellare grazie